Ospiti di Oltrefano oggi, Giacomo Rossi e Mauro Renzi tra gli ideatori di un nuovo movimento della nostra provincia, Azione Popolare. Iniziamo questa intervista proprio con Giacomo Rossi al quale chiediamo subito come e perché nasce questo nuovo movimento. Il fronte di azione popolare nasce per abbattere l'attuale sistema politico affaristico presente nella nostra provincia ed oltre, nasce in maniera trasversale sorpassando quelli che sono i concetti oramai desuiti di centro-destra e sinistra e appunto nasce dal territorio, dal basso tramite un processo partecipativo. Quali sono i principi ispiratori del movimento e le tematiche che andrete ad approfondire e a proporre ai cittadini? Naturalmente le tematiche saranno quelle del territorio e i principi ispiratori sono appunto il sociale, l'amore e la difesa del nostro territorio e un nuovo modo di far politica. Trasversarli hai detto all'attuale centro-destra e all'attuale centro-sinistra, nel senso che non vi rispecchiate in nessuna delle due coalizioni? Assolutamente no, appunto il fronte di azione popolare nasce per superare gli schemi partitici e politici, c'è un filo conduttore che unisce tutti, che è il filo conduttore dell'interesse, del denaro e della speculazione che gira intorno ai partiti politici e appunto noi ci prefissiamo di abbattere questo. Abbiamo messo delle regole per poter fare politica in maniera diversa, abbiamo precluso le eventuali candidature al nostro movimento a persone con la fedina penale non pulita, abbiamo precluso l'adesione al movimento agli aderenti a logge massoniche e appunto vogliamo far sì che questo movimento abbia da subito delle regole ben precise e ben chiare, dove il segretario del partito non sia una persona il capo del partito ma ogni tesserato abbia la possibilità in maniera democratica e partecipativa di essere parte integrante di questo movimento. Tra le persone che hanno aderito a questo nuovo movimento ci sono diversi assessori e consiglieri comunali della provincia di Pessero Urbino e con noi c'è proprio Mauro Renzi che è assessore comunale all'ambiente del comune di Pergola. Renzi come mai hai deciso di aderire a questo movimento? La decisione sinceramente è nata da diverso tempo, da una sorta di stanchezza, proprio come sottolineava prima Rossi dal fatto che non ci riconosciamo più in quelli che sono i concetti centro, destra, sinistra, perché ormai sono concetti dessueti, mal usati, perché forse la maggior parte delle lobby, sistemi politiche a livelli dirigenziali pensano ai propri interessi senza poi fondamentalmente credere in quelli che sono i concetti di base di un partito. Quindi diciamo che le ideologie sono rimaste per il popolo per tenerci divisi. Allora noi tendiamo e proporremo delle ideologie solide, quelle che sono come diciamo prima l'amore per il proprio territorio e quant'altro. Poi tutto andremo a definirlo in quello che sarà l'Assemblea Costituente dove in maniera tutta democratica, totalmente democratica, si andrà a decidere insieme ai cittadini comuni quelli che saranno i principi ispiratori che sulla scia ci sono già, però diciamo verranno poi ampliati e decisi tutti insieme in maniera democratica. Assemblea Costituente come dicevi che si terrà il 3 dicembre al furlo, un posto non scelto ovviamente a caso. No, assolutamente perché noi consideriamo che sia un po' la cerniera che va a collegare la costa con l'entroterra, quindi è un punto importante, importante per questo, importante perché il tutto, le prime riunioni molto partecipate sono avvenute lì, sono avvenute e proprio per dare questo senso di collegamento forte che deve esserci dal mare e dalla costa all'entroterra. Ecco, questo credo che sia la cosa più importante con ciò che vogliamo collegare e rifar vivere la politica come credo che sia giusto che ritorni la vera politica pulita e sana. Dicevamo prima che come te altri assessori e consiglieri comunali hanno aderito al movimento, quali? Sì, abbiamo allora l'ex assessore di Fermignano Alessandro Cappucci, abbiamo consigliere Marco Macci, abbiamo diversi che poi sveleremo anche il giorno del 3 di dicembre, comunque abbiamo un'altissima adesione sia a livello di amministratori, ma mi preme dirlo, scusami, lo devo dire, di piccoli imprenditori e di gente comune, che è stanca, stanca delle non risposte date, non da oggi ma da sempre, da questa malgestione generale della politica. Ai cittadini, a chi fosse interessato ad aderire a questo movimento, a seguire le vostre iniziative, come deve fare? Avete un sito, avete un profilo su Facebook? Sì, noi abbiamo un nostro blog che invito tutti a visitare e la pagina Facebook, Azione Popolare, Pienso Urbino, invito tutti a visitare e a condividere ciò che sono già le prime impronte delle nostre idee e per ampliarci, perché io mi considero, siamo sostanzialmente da soli, siamo una goccia nell'oceano, tutti insieme possiamo diventare l'oceano.